Al TTG Travel Experience di Rimini, la Regione Marche ha presentato i dati sul turismo nel periodo gennaio-agosto 2023 che contrassegnano 1.942.000 visitatori arrivati in Regione. Dato di un turismo che tiene con una flessione dello 0,83% a dispetto delle nefaste previsioni primaverili. A far sorridere la Regione soprattutto la crescita degli stranieri che segnalano un più 7,93%. Sono sulla falsa rega del 2022, nonostante il mese di maggio, il mese di giugno, le calamità e il meteo non ci siano stati sicuramente di aiuto e non sono state neanche alleate tutte le vicende di natura internazionale. Però siamo davanti a risultati che parlano chiaro, soprattutto con la grande soddisfazione di vedere finalmente un più 7 sul mercato degli stranieri che per noi non solo è una novità, è un auspicio a cui stiamo lavorando. Dati esaminati a margine della presentazione del nuovo brand Let's Mark Finalmente abbiamo il nuovo brand Let's Mark è un modo fresco di comunicare le marche significa marcheggiamo, diamo dinamismo alle marche ma soprattutto presentiamo le marche dappertutto e quindi continueremo con questa nostra politica di andare nelle più grandi capitali europee apriremo sicuramente agli Stati Uniti, io sabato partirò per Las Vegas per andare all'Imex la più grande fiera del turismo congressuale perché oggi abbiamo i voli di continuità e quindi da Roma e da Milano possiamo raggiungere tutte le parti del mondo. Sicuramente partecipazione alle principali fiere del turismo con Enit quindi andremo ad Utrecht, andremo a Madrid, torneremo a Monaco, torneremo all'ITB di Berlino fino ad arrivare a World Travel Market adesso a dicembre saremo presenti per la prima volta all'International Luxury Travel Market quindi la fiera del lusso a Cannes perché noi vogliamo dire che le marche ci sono le marche sono protagoniste anche per il turismo alto spendente che può trovare nei nostri boutique hotel, nelle nostre timore storiche, nei nostri borghi una grande risposta vincente e forte.